Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi vi presentiamo un'opportunità unica che si presenta nel cuore del suggestivo centro storico di Monopoli. Questa palazzina offre una vista incantevole sulla rinomata chiesa di San Leonardo, donando un'atmosfera unica e suggestiva. La palazzina si estende da cielo a terra con quattro livelli che offrono spazi ampi e versatili. Al piano terra troviamo un monovano di circa 50 metri quadri, ideale per sfruttare come negozio o studio professionale. Al primo piano troviamo un grande ambiente con bagno e ripostiglio, perfetto per essere adibito a zona living o ufficio. Al primo piano troviamo un grande ambiente con bagno e ripostiglio, perfetto per essere adibito a zona living o ufficio. Al secondo piano troviamo un altro ampio vano con bagno che può essere trasformato in ulteriori spazi abitativi o commerciali. Il terzo piano ha una spaziosa camera da letto e un terrazzo di 18 metri quadri, da cui si può vedere di una vista panoramica mozzafiato, ammirando anche il mare all'orizzonte. Nonostante richieda opere di modernamento, questa palazzina rappresenta un'ottima opportunità di investimento, soprattutto se è adibita a soluzione ricettiva data l'affluenza turistica che caratterizza monopoli durante tutto l'anno. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità. Ciao, alla prossima!